Un cordiale saluto ad una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Imprunita e il Bivio per la variante di Valico e tra Arezzo e Firenze Sud. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze Imprunita. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Bolognese, chiusure e modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni, ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto, servizio garantito con corse bus. E per lavori sulla linea Faentina è sospesa fino al 1 settembre la circolazione tra Borgo, San Lorenzo e Faenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!